Gentili telespettatori buona giornata sul caso report di Daniela Santanchè. La Lega con Matteo Salvini cercano sponde in Fratelli d'Italia per buttar giù politicamente Daniela Santanchè. E così Salvini e la Lega non si stancano di insistere con Giorgia Meloni e con Fratelli d'Italia. Senza superare poi quel livello di guardia che porta poi allo scontro. Nuovo ordine del giorno della Lega sulla crisi internazionale eccetera eccetera però il punto Lega non si stancano di dare a Giorgia Meloni dei segnali e a Fratelli d'Italia senza superare quel livello di guardia. Il capogruppo leghista alla Camera e non solo lui avevano chiesto a Santanchè di riferire in aula. Ieri anche lo stesso Salvini dice se la politica dovesse lavorare in base alle inchieste di report saremmo la Repubblica delle Banane. Massima fiducia ai colleghi in carica. E Salvini se dovessimo badare all'inchiesta di report saremmo la Repubblica delle Banane. Ma noi siamo la Repubblica delle Banane e le inchieste di report a volte vanno fuori binario, a volte ci azzeccano. Quindi poi i problemi fiscali, patteggiamenti con il fisco, TFR non pagati, pagate, società in bancarotta, non sono delle invenzioni di report su Daniela Santanchè ma sono reali. E massima fiducia ai colleghi in carica dice Salvini. Però è un modo finto. Salvini dice una cosa però poi cerca di farne un'altra. Il dato di fatto è che ormai nel centrodestra lo strapotere della Meloni è qualcosa che non può essere frenato, è inarrestabile. Certo si può godere come dice un parlamentare lo spettacolo di come Meloni uscirà dalla vecenda del MES e dalle altre in arrivo. Se non un tanto peggio tanto meglio. Ecco perché poi vedremo sul MES che cosa sta succedendo questa storia che va avanti ormai da anni. Poi la scomparsa di Silvio Berlusconi. Ieri di fronte ai giovani di Confindustria Salvini ha ricordato con commozione ai leghisti che è venuto a mancare quel gioco di sponda che risale a prima della caduta del governo Draghi che poi è proseguito con la linea comune sugli estimi catastali e sui balneari. Diciamo che Salvini aveva con Berlusconi una bella sponda. Insomma i due si trovavano da prima del governo Draghi nel governo Draghi anche contro Meloni. Vi ricordate quanti sgambetti avevano fatto? Si ritrovavano a cena per parlare male della Meloni come disse Verderami sul Corriere che si incontravano spesso e facevano a gara a chi parlava peggio della Meloni. Questi erano Berlusconi e Salvini appena cominciato il governo Meloni e prima dell'inizio di questo governo. Naturalmente con la scomparsa di Berlusconi Salvini tutto questo sparisce completamente. Quindi quella sorta di legame tra noi due non c'è più. Pertanto Salvini adesso è da solo. Da solo con lo strapotere di Giorgia Meloni che il suo 30% non è stato scalfito. Anzi dalle elezioni dal 25 è salita al 30. Mentre la Lega nonostante il libero quotidiano ogni settimana dica che Salvini vola nei sondaggi, sorpassa, vola, sorvola, trasvola e poi guardate le cifre e la Lega è al di sotto delle elezioni del 25 di settembre, quelle politiche. Quindi questa poi è la realtà. Antonio Tajani ribadisce la mia critica al MES è europeista, deve essere sottoposto al controllo del Parlamento europeo così come sottoposta all'attività della BCE. Che vuol dire sta frase? Niente. Forza Italia era il partito più favorevole della maggioranza al MES ma il fatto che oggi lo sia di meno nella Lega non viene eletto come un compattarsi del centrodestra, ma come è una conferma del fatto che il rapporto tra Tajani e la Premier Meloni sia blindatissimo e offra poco filo da tessere. Quindi Tajani e la Meloni sono saldamente sulla stessa linea. Tajani prima era il portavoce di Berlusconi, super fedelissimo di Berlusconi. Oggi Tajani è diventato il fedelissimo della Meloni, quindi è graniticamente e in maniera inscalfibile il supporter della Meloni. Ebbè ma Tajani ha fatto così per tanti anni con Berlusconi, quindi non è che fa fatica a farlo con la Meloni. In lui automaticamente da Berlusconi è passato a Meloni. Tajani non è abituato a fare il capo, Tajani è abituato a fare il numero due, il portavoce. Oggi che lui è il capo di Forza Italia ancora non si è reso conto e fa il numero due della Meloni adesso in maniera automatica. Secondo la Lega occorre che il partito si attrezzi a raccogliere il lascito berlusconiano su temi come l'abbassamento delle tasse e il lasciare libera l'economia. E poi aggiunge dobbiamo distinguerci da certe proposte come quella di Sant'Anché per imporre ai bed and breakfast di affittare per un minimo di due notti. Ma che roba è un minimo di due notti? Assurdo. Ecco, su questo guardate, su questa, su questo magari ne facciamo poi un video a sé. Vorrei dare la mia opinione su minimo due notti. Va bene, oggi non è che ci sono molte notizie. Oggi è domenica 25 giugno e realmente non c'è niente. Siamo d'estate, ombrelloni, spiagge, pinne, fucile ed occhiali e pertanto le notizie di politica d'estate, se non ci sono cadute di governi, come ci sono negli ultimi anni, i governi sono caduti d'estate. Quest'anno però, a meno che di stranissime sorprese, non c'è nulla di strano. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata. Grazie.